salve a tutti cari e care questo video cari e care con una maschera in faccia perché perché in questo periodo di mascherine 24h la nostra pelle veramente grida aiuto fatemi sapere come state messi voi perché la mia sta proprio cioè cambiando sta diventando piena di imperfezioni e quindi cari e care sono dovuta andare per forza con una situazione urto di skin care ovvero con la mia amatissima rose refine questa è una maschera di yellow body che ho richiesto già subito nuova perché una l'ho già finita ebbene sì questa qui vedete è grigia perché contiene carbone attivo ed argilla purificante inoltre non so se riuscite a percepirlo da video però è tipo iridescente cioè di base è grigia però poi sopra tutti dei glitterini rosa quindi non vi dico insomma di uscire con lei però è molto figa da mostrare per esempio su youtube vi consiglio di curare coccolare bene la vostra pelle soprattutto in questo periodo mascherine che cosa fanno ci portano i germi in giro e oltre agli ingredienti che vi ho già citato contiene anche degli estratti di rosa quindi oltre a purificare va anche a lenire nel contempo ho tolto la maschera cari e care innanzitutto benvenuti comunque in questo nuovo format come avete potuto notare da sigla game of brands io saluto tantissimo questa ragazza che mi ha suggerito il nome per il format veramente geniale io volevo appunto realizzare delle one brand challenge con charlotte tilbury e clio make up solo che clio make up è manchevole ancora per adesso di tanti prodotti e invece avevo charlotte tilbury che ha un sacco di queste cose quindi testiamo due tre massimo brand e andiamo a creare un look per testarli assieme però appunto per completare quello che magari manca a clio volevo realizzare questo video in combinazione visto che il concept tra l'altro di clio make up e charlotte tilbury sebbene siano comunque due brand molto diversi è elegante portabile molto portabile quindi insomma mi sembrava carino fare questa commissione e per quanto riguarda la skin care invece questo video è gentilmente offerto da hello body vado ad applicare il coco calm che è un tonico che contiene acqua di cocco estratto di calendula e aloe vera è un tonico viso lenitivo quindi scelgo lui per andare a togliere anche i residui di maschera questo qui è perfetto anche per lenire i rossori sempre per quanto riguarda questo periodo mi sento oltre alla rose refine di consigliarvi anche la cara rescue che è appunto un'altra maschera tra le nuove di hello body che purifica delicatamente i pori grazie all'argilla bianca alla farina d'avena e all'olio di avocado anche questa è ottima mentre vado ad applicare la coco day eccola qui che è la crema giorno all'olio di mandorle dolci e all'olio di cocco perfetta proprio per il giorno infatti la coco day è anche pre makeup quindi mentre andiamo ad applicarla vi narro la promo di oggi con questo mio codice sconto che è diritto al 50% su un carrello con spesa minima di 79 euro su tutto il sito di hello body guardate che è un ottimo sconto e i prodotti hello body hanno un'ottima ingredientistica tantissime mie amiche a cui l'ho consigliato si trovano benissimo e hanno risolto anche problemi di pelle insomma sapete che se io mi sento di consigliarvi una cosa anche spesso su youtube è perché è veramente ottima vi invito caldamente ad andare a cliccare qui sotto nell'info box perché in occasione del black friday c'è un'altra sorpresina molto molto valida per voi allora io direi di cominciare a caricare guardate che cosa ho qui una box piena 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 di prodottini charlotte tilbury e poi qui abbiamo anche prodottini clio makeup sempre di trasparenza charlotte tilbury mi è stato inviato pier package e invece per quanto riguarda clio makeup ho sempre comprato tutto io allora la crema l'abbiamo messa però io non posso non citarvi uno dei best seller charlotte tilbury nonché la magic cream questa crema la utilizzo tantissimo anche sul lavoro questa qui è nuova ma io ne ho una nel kit che avevo già acquistato il lotempore quando se ne parlava tantissimo questa crema è piuttosto costosa ma vi dico che veramente mi è capitato che mi abbia preparato perfettamente la pelle e mi abbia salvato un makeup di una ragazza che mi era arrivata di una modella che mi era arrivata con la dermatite addirittura ora non stiamo parlando di prodotti curativi perché ricordatevi che i cosmetici non trattano non curano ok non sono farmaci funzionano solo a livello topico però ragazzi questa crema qui idrata talmente bene che veramente vi prepara alla perfezione consigliata tantissimo anche per professionisti ma nel contempo anche per chi necessitasse di un'idratazione profonda vado ad applicare il contorno occhi sempre di charlotte tilbury questo qui è il magic eye rescue e va proprio a rivitalizzare promette di ridurre le zampe di gallina e i segni dell'età oltre a ciò anche di illuminare le dark circles vedete che lui è anche peschino il concept è diciamo simile a quello della magic cream perché comunque la texture sembra quasi identica aiuta per quanto riguarda le dark circles perché contiene la componente pesca tutto ciò che abbraccia la nostra amata componente pesca aiuta e secondo me lo vedete anche subito contorno occhi andrebbe applicato prima della crema avete ragionissimo perdonatemi ma oggi è andata così ho provato anche il magic serum questo l'ho provato sia su di me che su mia madre quindi per l'anti age ne bastano poche gocce e promette appunto di aiutare per quanto riguarda rughe tono della pelle sia a livello cromatico che a livello proprio di rassodamento naturalmente promette di idratare e vi dico che è veramente ottimo anche lui infatti io quasi quasi magari utilizzerei solo lui per me su una pelle normale sono andata a fare una base con siero crema e anche fondotinta nonché il flawless filter foundation sempre di charlotte tilbury e mi è fuori uscita una pelle proprio palla da bullying veramente la pelle è addirittura troppo luminosa magari ne eliminerei uno per quanto riguarda questa combinazione a tre e magari ovviamente li utilizziamo poi singolarmente vi cito anche il magic foundation di charlotte tilbury dicendovi che questo per me è leggermente un po' secchino io ho già provato e testato a fondo il correttore di clio makeup ovvero gli oh my love le colorazioni che ho io sono la 05, la 07 e la 08 come ho detto ultimamente anche nei miei ultimi video nello specifico questo qui è molto molto apprezzabile e necessario che negli ultimi tempi si ampli lo shade range sia per quanto riguarda fondotinta che correttori ma quello che ho notato nei confronti di vari brand è che ci si perde un pochino a livello di precisione perché magari si amplia per bene e viva ci si perde magari qualche passaggio qualche sottotono detto ciò io apprezzo tantissimo clio infatti non sono assolutamente concorde sul dare contro ad un brand che è un orgoglio italiano indie questo è il nostro lavoro almeno parlo per me e naturalmente se io non ho trovato la mia colorazione ve lo dico ecco perché caricare la formulazione è veramente magnifica è una formulazione piuttosto universale che non va nelle pieghette sono fiduciosa per il futuro e comunque io lascio sempre un 20% di probabilità che magari mi vada bene il 2E assolutamente appena torna lo prendo quindi capite bene perché ho pensato al game of brands andiamo a provare il magic wand che è il correttore appunto di charlotte tilbury il magic away che promette un full coverage lunga durata anti dark circle e ovviamente correzione a tenuta estrema io tra le più chiare ho la numero 4 quindi parto con lei eccoci qua dopo tre quarti d'ora anche questo mi pare mega giallo evviva allora la spugnettina è ergonomica fino a un certo punto vi dico perché sto notando che sicuramente ci devo andare comunque con la mia pensavo da Milano ok la formulazione sembra magnifica anche di questi molto sottile come correttore si è aperto facilmente è anche pseudo piallante lo vedete quello di Clio lo vado ad applicare sui brufolini tampono sul brufolo però poi apro il colore ai lati devo veramente farvi un video sui correttori perché io noto che ci sia ancora un pochino la vecchia scuola della color correction per esempio con i correttori colorati vi lascio questo link in scheda dove vi parlo proprio di una teoria scientifica scientifica che vi spiega perché la color correction non funziona nella maggior parte dei casi vado di questo quindi il flawless filter l'hollywood che appunto promette comunque di essere molto adatto per pelli mature questo io ve lo confermo vado con il mio pennello a me non piacciono tantissimo questi che prelevano così perché io non voglio mettere questo in faccia per poi mettere i germi dentro comunque ve lo sconsiglio anche per voi perché secondo me vi va proprio ad ufficiare poi la formula va bene per l'anti age un fondotinta luminoso smì perché se è troppo luminoso mi va nelle rughettine e mi fa un po' un effetto mascherone su comunque una pelle che oltre a 50enne non potrà mai così essere naturalmente luminosa però vi dico che indossato su mia madre in video era magnifico infatti appunto ho fatto i video per l'accademia e vi stavo dicendo che in video risulta bellissimo però come spesso dico in classe il video non è la vita reale e se in video una cosa di questo tipo fa super moda ok dal vivo la maggior parte dei clienti non vuole vedersi una palla da bullying quindi uno deve piacere due per l'anti age state un po' attenti se ci sono troppe rughe magari opacizzate un pochino alcune zone che è quello che farò anche io adesso allora per quanto riguarda il finish comunque è ottimo ripeto tra i prodotti più luminosi capite bene che con questo finish che state già notando tra l'altro il colore di numero 2 è perfetto se mettete anche la crema sotto il siero cioè vi vedono da andromeda la coprenza è media questa cosa ci piace perché essendo pensato a livello di concept per l'anti age se vogliamo sicuramente il mascherone per l'anti age è sconsigliato e adesso parliamo della cipria anche questa tra i best seller del brand anche questa io ve l'ho recensita nel mio video one brand challenge di charlotte mi è arrivata poi la medium gentilmente inviatami le ho trovate diverse cioè non so se sia stata riformulata aggiornatemi voi che sapete che io sono svampi tranqui però può succedere che un prodotto con più pigmento colorato abbia un finish diverso dello stesso prodotto trasparente o con meno pigmento infatti questa è la light e questa è la 2 medium trovo che la light sia un pelo secchina invece la medium mi piace molto molto di più e l'ho utilizzata anche sul contorno per rimanere nel concept di pelle luminosa anche se se io dovesse uscire così mi sentirei tipo fritta però fa moda e vado con la medium e vi dico che comunque sì è un pelo 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 scurettina per me infatti vado a prendere la light per forza vi ho detto vi ho parlato del finish perché l'ho comunque utilizzata a livello lavorativo su altre persone ok vedete che si rivede ancora il brufolino quindi il correttore di clio alle volte non si è fissa troppo fan brush o meglio due fibre qua sotto ok allora i fondotinta luminosi ovviamente ve li gestite anche un po' come volete voi perché se li volete opacizzare riuscite la cosa bella è che opacizzate solo le zone che volete voi quindi io ho lasciato lucide le gotte e un pochino il mento e il naso fatte le sopracciglia non mi sembra di avere niente di questi brand quindi con sto usando solo Layla precisely my brow pencil 2.75 di benefit oh aiuto ho la beauty love di clio make up vi lascio qui il video in cui la recensisco a fondo e infatti se riesco non utilizzo lei perché l'avete già vista quindi visto che vi è piaciuto tantissimo facciamo un altro look correttivo yeah quel che è certo è che andremo ad applicare anche la matita occhi all day love di clio e l'eyeliner deep love a lunga tenuta questi oh perché sono perché quindi loro mi interessano parecchio prendo la pillow talk e vado a prendere il rosa più chiaro con il turquoise ai buchi di neve cosmetics allora facciamo un occhio con correttore e un occhio senza mettiamo di nuovo il correttore di clio qua così lo testiamo anche come base vado a creare la mia transition oserei dire sempre occhi piccoli oggi facciamo un correttivo per occhi piccoli perché ci sono colori chiari e c'è anche l'eyeliner ok parte senza correttore allora ci vado bella massiva tanto è un colore chiaro anche qui verso l'interno pennello banana beauty vado anche sotto sempre bella ampia tanto è chiaro lascio il primo terzo dell'occhio quindi la zona del dotto lacrimale bello luminoso andrò a metterci il chiaro appunto sempre linee correttive per occhio piccolo anche per ampliare gli occhi un po' ravvicinati perché ho voluto complicarmi la vita senza mettere il correttore di qua adesso andiamo a prendere questo colore che è sempre in palette perché è nella stessa palette e con questo mio pennellino che è sì da sfumatura ma vedete è un po' più conciso vado nella piega però per occhio piccolo più che nella piega dentro dentro andate a sfumare bene verso l'alto quindi verso l'osso orbitale lo so che non ho mai le sopracciglia super on point però ragazzi cioè disordinate mi piacciono pure cosa vi devo dire quindi lo stesso colore scuro lo vado a mettere qui sotto e lo vado a mettere solo fino a metà occhio qui sotto non di più non di meno prendo un pennello da sfumatura sempre del mio kit riprendo il rosa più chiaro senza pressare troppo sfumo i bordi ma questo trucco correttivo è adattissimo ad un occhio che contiene qualche pagliuzza verdognola da palude veneta come il mio perché proprio ha il complementare rosso che ha costato al verde me lo tira fuori non vado a mettere gli shimmer della beauty love di clio make up perché il mio aggiornamento al video in merito a questa palette vi dico che gli shimmer barra metallici quando poi lo andate a mettere sull'occhio lui si perde gli swatch sono indicativi di un prodotto di una qualità di un prodotto fino ad un certo punto ma il colore noi lo apriamo la maggior parte delle volte quindi bisogna vedere come il colore rimane aperto con questa palettina vado a prendere un the plastic che fa parte appunto del nuovo set di pennelli di ila make up in collaborazione con giulia casadei entrambi in collaborazione con cosmaify vado a prendere la parte più chiara quindi questo lo applico qui sul primo terzo dell'occhio molto carino giro il pennello vado a prendere l'altro che è tipo un rose gold e lo vado a mettere sulla parte finale tutti questi colori comunque come sempre vengono sempre fuori meglio con il dito io voglio provare anche a bagnarlo per vedere se esce ancora di più il secondo colore qui che ho preso ha meno base colore e più perlescenza ve lo lasciamo bello sfumatone il make up perché io li adoro sfumati piuttosto che super netti giro il pennello vado a riprendere quello chiaro quindi questo ha più perlescenza e questo ha più base colore adotto lacrimale diciamo che non c'è tutta questa differenza stratosferica tra l'asciutto e il bagnato l'unica cosa qui non avevo messo il correttore sotto perciò tipo risulterà un po' più scuro perché volevo vedere se le sfumature si facevano bene anche senza correttore sotto e la risposta è sì quanto riguarda questo colore chiaro qui io vado anche qua sotto così portando su il colore più scuro della palettina porto la sfumatura scura anche un pelo a V la radice delle ciglia mi fermo a metà occhio vi faccio vedere anche un'ultima cosa che faccio prendo lo shimmer più chiaro faccio un'illuminazione un'illumination anomala qua vedete che si vede tipo così eyeliner di clio allora il zip love si presenta così il pennellino è in feltro adoro dato che vi piacciono appunto le info correttive l'eyeliner io lo consiglio sugli occhi piccoli perché è come se creasse otticamente un bordo maggiore poi si può essere in accordo o in disaccordo per tante cose però io ho notato questo quanto riguarda l'eyeliner devo continuare l'asse naturale dell'occhio quindi è come se la parte sotto dovesse continuare ma diciamo parallela a quella sopra quindi deve essere un po' più alta questa è la prova vedete sembra più grande ditemi se concordate qui sotto con un commentino e adesso andiamo con la all day love matita nera di clio dunque il tratto è più opaco che lucido ok scrive benissimo più bello quasi sull'occhio che swatchato perché visto così mi dico forse perché c'è anche l'eyeliner vicino che è ultra nero mi dico non è che sia nerissima però sì applicata niente da dire ragazzi sì vi avevo promesso un trucco occhi piccoli sì la matita nera non è da occhio piccolo quindi errore mio scusate ma avevamo la matita da testare quindi fino alla matita era tutto perfetto per occhio piccolo adesso andiamo oltre allora vado a sporcare un pochino anche la radice delle ciglia andiamo a prendere un nero di clio strong vi dico la verità è da un po' che non lo provo allora swatchato è una cosa incredibile quel che mi ricordo di questa palette di certo è che preferivo i matt questo sicuro come l'oro andiamo a prenderlo con un mio pennellino di precisione a penna sempre facente parte del mio kit madre perlato e vado a sfumare questa cosa della sporcatura che ho fatto qui sempre più o meno fino a metà occhio non di più ditemi anche voi che cosa pensate di questa palette perché sicuramente ne abbiamo parlato sotto quel video però sono molto molto curiosa sia di clio che di charlo una cosa che mi piace fare spesso ovvero tirare parallela una linea all'eyeliner e dato che siamo in gioco giochiamo a lungo anche l'eyeliner visto che abbiamo fatto questa linea lunga è sempre strong lo vado ad applicare all'interno questo è un passaggio che vi consiglio sempre di sopra le matite per andare a fissarle così vi risulteranno long lasting forever ovviamente se non piangete ma se siete gelide siete a posto lo consiglio sempre con un correttore andiamo a pulire il look sapete che io sono un estrema fan di questo passaggio perché invece di scotch così rimane anche sfumato il look e non possiamo assolutamente farci perdere questo passaggio ovvero il mascara di charlo tilbury il 93% di volume e definizione 96% di persone concordano con un look magnifico e amplificato il 96% concorda con lunghezza delle ciglia ecco qua tutte le promesse vediamo se è come gli ex allora innanzitutto è stupendo cari e care noi andiamo a mettere la terra la terra un po' così anni 80 il fard cosa facciamo andiamo a mettere il bronzer bisogna essere di moda raga sapete andiamo a prendere la airbrush bronzer a matte bronzing filter for face and body quindi anche per il corpo io ho la colorazione 2 allora anche questa che è la film star bronze and glow di charlotte tilbury la vado a prendere per l'illuminante non sono delle cialde proprio proprio ultra pigmentate come sono abituata ultimamente e quindi insomma non è che mi faccia impazzire però il colore è migliore in caso raffreddiamo questa vediamo se la formula di questa è migliore quindi mio pennello io vado ancora via con le robe viola sulla mano voi non ci credete cioè adesso va boss sono in video mi conoscete e tutto ma io vado dal panettiere con queste robe ho bisogno appunto di un po' di freddume soprattutto per quanto riguarda il mio amato contouring naso non ho blush di clio non l'ho preso me lo sono dimenticato no si forse ho un blush di charlotte eccolo qua e noi ce lo andiamo a spara flashare con un pennellonji che è il the jolly brush di mulac bello strong come piace a me vedete che ha due cialde quindi più centrale prendete più vi illuminate quindi potete comunque applicare il centro verso il naso così no non è del tutto matte questo qui ma appunto è tendenzialmente iridescente andiamo comunque a spararci anche un po' di illuminante con questo pennellino di nabla che è l'highlighter brush ho visto che sono usciti dei pennelli bellissimi ecco quando mettete sull'arco di cupido però non mettete tutto sul baffo perché sennò appunto sembra che abbiate il baffo sudato ok luminescenza sicuramente concept di questo look qui cari e cari e cari vi faccio vedere questo bellissimo illuminante che si chiama beauty light wand di charlotte tilbury che mi è piaciuto tantissimo non ho inserito in video perché l'ho provato su una mia amica e qui proprio riuscite a vedere la luminescenza che sembra provenire da dentro quindi questo illuminante in crema ve lo super consiglio rossettone allora clio make up per quanto riguarda i rossetti adoro vi dico subito che ho testato durante questa settimana il monelinisce essere molto carino perché uso l'infinito è molto carino vedete è proprio quel rosa nude abbastanza universale ma il colore che mi ha rubato il cuore è stato fire kiss che fa parte appunto dei liquid love matt io amo questi rossi tra il veneziano e il ciliegia tipo allora c'è bisogno di parlarne un attimo questo rossetto è magnificente ha un colore pazzesco ha una formula pazzesca si asciuga velocemente si applica facilmente potete anche utilizzarlo senza matita e io lo amo questo ve lo iper consiglio se c'è qualche colore che vi piace prendetelo ma questo qui che ho testato io ha un colore che mi fa impazzire e tra i secondi potete già uscire con la mascherina vado a dare una seconda passata del mascara di charlotte tilbury e arrivo con tutte le consideration finali intanto avete fatto le vostre game of brands hashtag qui sotto votate i prodotti che vi sono piaciuti di più ed eccoci qui cari e care allora mi sono anche imbellettata imperdibili orecchini di half moon's world adoro e quindi partiamo subito con il nostro game of brands allora partiamo appunto dal mascara questo mascara è un po' strano ve ne avevo già parlato vi invito a seguirmi su instagram perché lì vi parlo dei prodotti anche in tempo reale è particolare perché la prima volta che l'ho indossato mi sono detta ma che è sta roba di cui parlano tutti e mi sembrava veramente che le ciglia non fossero diventate nulla di che perché la formula è molto liquida quindi non ho visto né allungamento né volume la seconda volta che l'ho provato mi è piaciuto molto probabilmente mi sono detta o la formula doveva prendere un po' di aria alle volte succede anche il contrario che magari un mascara non ci piaccia più dopo che ha preso aria quindi questo meglio dopo certo mi dona più lunghezza e appunto apertura a ventaglio che volume questo quindi è un buon mascara però allungante e da sapere queste cose che vi ho detto per quanto riguarda il liquid love di clio io lo amo mi fa impazzire ha una formula incredibile piena ma sottile confortevole lo metti ed è facilissimo da mettere non serve nemmeno la matita perché è super pigmentato e si fissa lì perfetto anche per questo periodo di mascherine questo colore qui che sto indossando per me è il non plus ultra del rosso come punto proprio di gradazione per quanto riguarda la paletta appunto beauty love vi rimando al video nuovamente e vi riconfermo che io preferisco gli opachi agli shimmer di questa palette perché sono sicuramente migliori il nero è molto bello assolutamente devo ancora capire se è lui o la matita che un pochino si perde via non lo so la matita comunque di certo mi sembra molto molto valida come primo utilizzo molto nera soprattutto applicata è addirittura meglio di swatchata l'eyeliner assolutamente anche qui da riaggiornarvi perché gli eyeliner e le matite comunque vanno viste anche nel tempo soprattutto gli eyeliner per quanto riguarda la loro durata ecco di certo è molto nero e il pennellino in feltro facilita tantissimo la sua applicazione polveri di charlotte tilbury allora molto meglio come formulazione questa rispetto a queste solo che questa contiene più giallo invece sicuramente top del top i blush di charlotte tilbury hanno una formula appunto così setosina e così saten proprio anche come finish che appunto vi liftano proprio lo zigomo quindi assolutamente bellissimi quindi mi rimane appunto solo la palettina di charlotte tilbury pillow talk che ha questi rosini molto carini sicuramente per pelle da medio a chiara fin qua ci siamo altrimenti non si vede niente ma si è comportata benissimo qui stiamo parlando ovviamente di palettine utilizzabili dai più perché comunque cioè non stiamo parlando di roba difficile da utilizzare di colori che non sai come abbinare sono palettine veramente molto fruibili come potete notare ciò che io vi consiglio sono comunque look sfumati con questo tipo di palette quindi benissimo i bridal benissimo look da giorno i look correttivi tutti i look sfumati però donano il meglio di loro con le sfumature io spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se vi piace questo nuovo format soprattutto quali brand vorreste vedere prossimamente vi dico che sto testando anche pat mcgrath bobby brown vi aspetto su instagram vi invito ad iscrivervi al mio canale per aiutarmi a raggiungere la grande soglia dei 100.000 così facciamo la festa in live su instagram assieme con i palloncini e tutto quanto vi invito vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo game of brands o chissà quale sarà il prossimo video bye